Ciao bimbi, sono Annalisa. Oggi vi racconto cantando una bella storia. Le cose di ogni giorno raccontano i segreti a chi le sa guardare e ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole un frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore. Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore, per fare il fiore ci vuole il ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Ciao bimbi, spero che questa storiella vi sia piaciuta. Un bacio, ciao!